A dare manforte ad Antonio De Caro, dopo lo spot a colpi di focaccia con Maria Elena Boschi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti, con il quale i ragazzi del De Caro Club hanno affrontato temi riguardanti la politica, l'informazione e i rapporti del governo con la città di Bari. Con la programmazione europea, diretta alle aree metropolitane e non più alle regioni, De Caro chiederà in qualità di sindaco al governo centrale di insistere sulla nettizzazione dei fondi europei. per permettere di escludere le quote di cofinanziamento del comune dai vincoli del patto di stabilità. A Luca Lotti e al premier Matteo Renzi la richiesta di De Caro di mantenere l'impegno di premiare i comuni virtuosi che hanno bilanci solidi come il comune di Bari. Lotti ha risposto anche sul futuro dell'editoria e dei giornali in crisi, chiedendo al mondo dell'editoria di rinnovarsi per mettersi al passo con i tempi. I giornali non pubblicheranno più sulla carta stampata gli annunci dell'asta giudiziaria, ma dovranno sfruttare le edizioni online. Da rivedere infine, secondo Lotti, anche il patto sui giornali di partito. Una amministrazione indipendente e imparziale è quanto promette invece il candidato sindaco al comune di Bari, Desiree Di Geronimo, che ieri ha presentato i suoi candidati. Nella lista sono 36 le candidature al comune, di cui 13 donne. La lista civica dell'ex pubblico ministero è capeggiata da Nunzia Bernardini. Nell'illustrare il programma elettorale, il candidato sindaco ha preannunciato la presentazione, da qui a dicembre, di quattro delibere, difensore civico della giustizia, occupazione, lavoro e welfare. Presentata anche la lista Pisicchio per Bari, che sostiene la coalizione di centro-sinistra con Antonio De Caro sindaco, imprenditori, commercianti liberi professionisti impiegati, medici e ben 21 donne rappresentano il centro democratico. Illustrati alla platea i punti principali del programma, un progetto che lo stesso Alfonso Pisicchio ha definito ambizioso e per qualcuno coraggioso. Il candidato sindaco del centro-destra, Domenico Di Paola, si rivolge ai giovani. Il lavoro è il tema centrale attorno al quale è stato lanciato il progetto Timbro Rosso, un piano che si articola in tre livelli di intervento, teso ad agevolare l'intrapresa dei giovani e la loro voglia di fare. I vari step prevedono la creazione di un pool di esperti che fornisca informazioni per sviluppare le iniziative imprenditoriali, la stipula di convenzioni con le banche per un accesso agevolato al credito attraverso il comune che si farebbe garante, corsia preferenziale per ottenere l'ambito Timbro Rosso, nuove attività imprenditoriali strategiche per lo sviluppo dell'economia barese. Grazie a tutti! Sì! Sì! Grazie a tutti.